Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR per chi non mi conoscesse io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante pensato appositamente per farvi attormentare il video sarà dedicato interamente al suono dello scratch sul microfono attraverso questi quanti che mi sono stati regalati da qualcuno di voi attraverso la mia lista Amazon che trovate giù in descrizione avrei voluto ringraziare la persona che mi ha inviato a regalmi purtroppo è arrivato senza il mittente quindi se stai guardando questo video tu che sei stato o stato così gentile da regalarmi questi bellissimi quanti super triggerosi scrivimi un commento perché voglio ringraziarti e ovviamente non mancherà il sussurro il suono della mia voce whisperi anche quindi ti consiglio per ascoltare questi suoni di indossare le cuffie oppure agli auricolari e naturalmente di distenderti scegli un posto comodo e silenzioso e se questo video ti piace non dimenticare di farvelo sapere lasciando un mi piace e iscriviti naturalmente al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti bene spero che questo suono ti regali tanti 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 prendi io vorrei rispondere alle domande di un video tag proprio per fare anche un po' di sussurri siamo qui i suoni il video tag che ho scelto è quello creato da Stanley ASMR che saluto e che ringrazio per avermi nominata nomino a mia volta tre persone che mi piacerebbe rispondessero al tag si tratta di Sara di Sara di Sara SMR di Chiara di Chiara SMR e Marco di marco sr magari in un prossimo suo video chiacchieriggio iniziamo con le domande sono nove domande la prima è qual è il tuo punto forte? allora sono indecisa penso che il mio punto forte sia uno dei miei punti più forti sia la capacità di mediare insomma di mantenere la calma anche in situazioni conflittuali e l'essere capace di negoziare per arrivare a punti di incontro con le persone in effettiva a una pace seconda domanda ci sono dei momenti in cui cambieresti parte del tuo passato? sento sempre dire che il passato ci ha portati a essere quello che siamo e la maggior parte delle persone questa domanda risponde che non cambierebbe nulla del proprio passato io qualcosa la cambierei ma magari non si tratta di cambiamenti sostanziali ecco però sì qualche qualche parola non detta magari qualche sentimento non espresso cose così terza domanda sei mai stata messa alla prova da qualcuno parlando di pazienza? sì molte volte moltissime volte e una delle cose che più mi spazziettisce è non avere risposte precise alle domande che riguardano decisioni da prendere mi sta anche bene che su decisioni molto importanti qualcuno possa dire non lo so ancora vediamo ma quando questo non lo so si protrae troppo a lungo e quando comprendo che non c'è una riflessione dietro e allora mi spazientisco che bel suono spero ti stia abbastanza quarta domanda direbo di una persona paziente abbastanza sì quinta quando hai momenti di malinconia cosa fai per sentirti meglio? solitamente solitamente cerco di stare con la malinconia e non di sentirmi meglio quindi preferisco ascoltare musica scrivere il mio diario o scrivere in generale poesie qualche volta disegnare quando la malinconia è molto molto forte dormire ma è più raro perché appunto la malinconia è tra l'altro una delle emozioni che fanno parte maggiormente della mia vita sono spesso malinconica e quindi assapora anche questa emozione ecco sesta domanda nel passare del tempo pensi di essere cambiata? se la risposta è sì in cosa? o sì sono assolutamente cambiata tanto soprattutto dopo i miei 24 anni e continuo a cambiare sono diventata una persona con una mente molto più aperta molto più flessibile molto più indulgente verso se stessa anche troppo a volte meno autodisciplinata in risposta probabilmente all'esserlo stata un po' troppo in passato in base alle ultime vicende che mi sono accadute penso di essere diventata anche una persona più diffidente già lo ero prima e più consapevole la vita ci porta ad avere sempre più skills sulla base di ciò che tocca settima domanda chi è la persona con cui ti senti più in linea caratterialmente ma ci sono tante persone che mi hanno dato in linea caratterialmente ma allo stesso tempo noto delle differenze e ovviamente i miei migliori amici sono persone a me molto affini e che comunque sugli aspetti più importanti del carattere hanno delle similarità con il mio ci sono anche tante persone che ho conosciuto tramite youtube tramite youtube che sento particolarmente bambini e ovviamente sono le persone con le quali parlo più spesso una sicuramente una sicuramente delia anche se ci sono ovviamente tante differenze però sì la ottava domanda è la penultima se potessi parlare alla te del passato cosa consiglieresti per affrontare il futuro penso che la mente del passato non mi ascolterebbe ma comunque le consiglierei di vivere più liberamente in maniera che possa godersi tanti e bei momenti e fare tante esperienze diverse se fosse stato così a quest'ora avrei sicuramente avuto meno delusioni ma tutto sommato le direi semplicemente con tenerezza vai avanti sei bella ovviamente per bella intanto bella fisicamente ti faccio spero si sia capito ok nonna domanda se ti va a tag a qualcuno ed esprimi un giudizio positivo o negativo su questo tag come ho detto all'inizio io voglio tag come ho detto all'inizio io voglio tagare Sara del canale Sara SMR Chiara del canale Chiara SMR e Marco del canale Marco SMR e spero che rispondano al mio tag e esprimo un giudizio assolutamente positivo sul questionario inventato da Stanley perché mi piacciono i discorsi introspentieri e spero che la combinazione del sussurro con questo favosuono ti sia ti sia mi piace un po' fammi sapere se il video ti è piaciuto lasciando mi piace mi raccomando e come al solito noi ci vediamo se ti va al prossimo video bacini fatosi